Preghiera del mattino Mio Dio, quando leggo e sento che Tu hai bisogno di braccianti per la Tua messe, comincio a lamentare che vi sono troppi pochi preti. Lamento che molti di loro non siano veramente come penso che Tu desideri, e Tu hai bisogno di braccianti per il Tuo raccolto. Forse avresti bisogno di me, forse dovrei rendermi utile a Te qui dove vivo, dove lavoro, dove passo il mio tempo. Lavorare al Tuo raccolto e annunciare agli uomini il Vangelo del Tuo amore. Ecco cosa voglio cercare di fare oggi. Mio Dio, fammi sentire il Tuo sostegno. Amen.